Salve a tutti, sono Brian Fari ed eccoci in un altro bitrate, live ovviamente, come al solito, sempre per la mia situazione attuale, e sempre riguardante Kingdom Hearts 3, perché oggi sono uscite delle informazioni e volevo un attimino ripilogarle perché in alcuni casi mi sembra che non sia stato particolarmente chiaro quello che è stato detto è il come porterà ciò qualcosa, ma ora lo spiego, cioè sono qua per questo. Nonostante avrei voluto fare un video leggermente più elaborato, editato, tutte queste cose, però non posso, perché non ho il computer, quindi preferisco informare in maniera diretta. Prima però vi ringrazio come sempre per i riscontri, i commenti, tutte queste cose, mi spiace che non posso rispondere come si deve, vi ringrazio per le visite a sorpresa durante la live che ho fatto così a sorpresa, io stesso volevo fare dei piccoli testing, e vi annuncio che il video su Dragon Guard 2, la retrospettiva e la storia completa, uscirà il 17, quindi non aspettatevi per una cosa bella come Dragon Guard 1 perché il gioco di per sé è inferiore. Ma torniamo a Kingdom Hearts 3, oggi ci è stato dato la schedule release dei primi aggiornamenti, 29 gennaio, the one del gioco, uscirà la patch 1.01, che, correzioni, bug e similie, aggiungerà anche il memory archive, archive, non so come si pronuncia onestamente, l'archivio memoria. Cos'è questo archivio memoria? Sono i famosi riassunti di tempo fa, come disse Nomura, che doveva mettere questi riassunti usciti tempo fa in Giappone. Non so dire se effettivamente sono proprio quei riassunti o se ce ne saranno altri, però sono di sicuro dei video che riassumeranno la storia. Al 95% sono quei 5 riassunti. Probabilmente non entravano nel gioco, probabilmente metteranno una cosa a parte, non lo so. Stati fatto che aggiungeranno questa scelta e sarà disponibile per tutti. Il 29 gennaio, se noi possiamo scaricare la patch the one, possiamo avere subito accesso a questi riassunti. E fino a qui ci siamo. Ho visto che c'è confusione per quello che uscirà i giorni dopo. Il 30 gennaio uscirà l'epilogo, che non è il finale, ma questo ci arriviamo dopo. Uscirà l'epilogo del gioco. Prima però una piccola premessa. In Giappone, il Memory Archive, la patch the one, usciranno il 25, perché lì il the one è il 25. Mentre il 26 uscirà l'epilogo, sempre il giorno dopo. Quindi il 26 gennaio, Giappone. Il 30 gennaio, Europa. Il 31 gennaio, invece, per tutti, sia Giappone che Occidente, uscirà il finale segreto. L'epilogo sarà disponibile per chi ha finito il gioco. E per quanto vi voglia bene, nel profondo dell'anima, o rompete il the one di 10 settimane, oppure dovreste giocare alla difficoltà più bassa e saltare tutti i filmati per finirlo in 24 ore. Così, ah, me la sparo lì. Tra l'altro in Giappone sono stati letti anche gli orari, mezzanotte. Mentre le 7 del pomeriggio, il 31 per il finale segreto. Però questi sono orari giapponesi, per noi non è stato confermato. Per il finale segreto, invece, ci sono dei requisiti da rispettare, dipendentemente dalla difficoltà. Come tutti i finali segreti del primo Kingdom Hearts fino ad oggi. Quindi su questo non è cambiato nulla. In base alla difficoltà scelta, cambieranno i criteri per il finale segreto. Questo sarà il 31 per tutti. Quindi fino al 31 il finale segreto non sarà disponibile per nessuno. Nel caso avessimo, invece, rispettato quei requisiti, una volta scaricata la patch di giorno 31, avremo subito accesso al finale segreto. Ora, questa scelta può non piacere, questa scelta può essere trovata, non lo so, ah, volevo tutto sul disco. Ci sono tante linee di pensiero e purtroppo siamo in una generazione in cui lo spoiler è molto semplice. E lo abbiamo vissuto molti di noi sulla nostra pelle. Però è una delle cose che eventualmente dobbiamo accettare per esso essere Kingdom Hearts. Magari poi in un futuro, in un futuro senza spoiler, magari, dopo molto tempo, uscirà una versione fan al mix che avrà le inclusioni della novella. Perché ho sentito molte persone lamentarsi del fatto che sta uscendo una novella di Kingdom Hearts 3. Sappiate che le novelle di Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 2 esistenti hanno i loro pezzi di storia, sono stati quelli poi aggiunti nelle novelle. I pezzi più belli che non ci sono nella storia normale sono quelli poi aggiunti nel final mix. Così, eventualmente, le parti belle della novella che non ci sono sul gioco base, poi diventa come verrà scritta la novella, probabilmente saranno quelle aggiunte nel final mix. se faranno un final mix, io lo spero. Quindi, eventualmente, si può attendere quella versione. Ora, voglio dire solo l'ultima cosa, perché ho visto che c'è moltissima confusione nella differenza tra finale ed epilogo. Ora, probabilmente questa confusione è derivata sul fatto che ci può essere molta esperienza videoludica, ma pochi effettivi videogiochi fanno questa distinzione. È una cosa più da libro. I libri tendono a sottolineare maggiormente, specialmente quelli con narrazione in terza persona, tendono a sottolineare maggiormente questa differenza. Però voglio farvi un esempio, molto semplice, mirato, con Final Fantasy X. Farò spoiler sul finale. Quindi, se non avete finito e giocato Final Fantasy X, stoppate qui, vi ringrazio per l'ascolto e tante care cose. Però, è uno dei Final Fantasy più famosi, se mi seguite, probabilmente avete finito Final Fantasy X. Lo spero. Final Fantasy X. Allora, tutto lo scontro con Yuyevon, tutta la parte dopo che porterà a Tidus che si dissolve, a Yuna che dice I love you, nei suoi errori di traduzione più madornali, quello è il finale. Il batti 5 tra Tidus e Jack, quello è il finale. Ok? Finale. Perché è la conclusione della storia iniziata. L'epilogo di Final Fantasy X, invece, è il discorso di Yuna, a rete unificata e manco fosse una politica, che sembra così tutta, penso si dica lo stesso al maschile, un politico, che fa a tutto il mondo quando dice Jack... Sì, spoiler sullo spoiler. Sì, perché siccome dicono sempre Sin is Jack, sto dicendo Jack is Sin. Ok, Sin è definitivamente morto, gli amici persi, le emozioni svanite, non dimentichiamoli mai. Ok, non è proprio così, però sto andando molto rapidamente per farvi comprendere il punto. Quello è l'epilogo. Perché è una conclusione quasi staccata dal resto del gioco, perché appunto si fa qualche tempo dopo, dove c'è un atto finale nel gioco. Ripeto, il finale è la parte in cui Yuna dice I love you, o più realisticamente arigato. Quello è il finale. Titus si butta dall'aeronave dissolvendo, si batte i cinque con Jack. L'epilogo è il discorso di Yuna a rete unificate, col microfono, politica. Quello è l'epilogo. Avete ben colta adesso la differenza tra le due cose? Questo è quello che ci darà Nomura quando paccerà il gioco. Ok, quindi il finale c'è. L'epilogo, che è una cosa qua si potrebbe dire slegata, ma non tanto, perché ovviamente non sappiamo l'entità dello stesso, però a livello letterario è quello. Il finale segreto, nel caso di Final Fantasy X, sempre per citare sempre Final Fantasy X, è Titus che emerge dall'acqua. Per quanto nella questione Final Fantasy X non è un finale segreto, perché non è segreto, basta finire il gioco e ce l'hai, però la ideologia a livello letterario è quella. Sappiamo come Kingdom Hearts 2, in generale il franchise comunque, ha sempre anticipato, all'inizio concettualmente, ma poi sempre in maniera più mirata, i futuri titoli con i suoi finali segreti, probabilmente avremo anche una cosa del genere. Ok, spero di essere stato chiaro, sia per quello che ci verrà dato a livello di patch, a livello di aggiornamenti nei primi giorni di gioia, già il 31 per noi, è subito, in Giappone anzi dovranno attendere, però non potranno spoilerarci tutto. Non potrà spoilerarci niente e nessuno, a meno che qualcuno non riesca a taggerare i server Sony slash Microsoft e scarica prima la patch. Mi viene difficile. A meno che i contenuti non siano su disco e la patch serve solo per sbloccarli, in quel caso, magari, però, ragionamenti inutili, lo sappiamo questa cosa. Spero che abbiate capito appunto quello che sto facendo e spero che abbiate capito anche meglio la distinzione tra finale ed epilogo, perché molte persone pensano che sia la stessa cosa. Non è così. A livello letterario, se siete una persona che legge molti libri, la differenza già la sapete. Probabilmente il mondo letterario la marca di più la differenza. Mentre il mondo videoludico la fa meno la distinzione. Ma anche in quel caso ci sono degli esempi. Final Fantasy X, come detto, non è la prova lampante, ma si potrebbero fare tantissimi altri esempi. Con questo è tutto. Vi ringrazio, come sempre, per l'ascolto. Vi ringrazio, come sempre, per vedere questa cosa traballante. Anzi, forse oggi ho un po' meno traballato la mano abbastanza ferma. Vi invito a seguire i prossimi video, quelli che ci saranno, da fare tutte queste cose. Come sempre, spero di ridonare il più presto possibile. Spero di poter fare anche altre live a sorpresa, così facciamo altre belle discussioni mentre mi perdo nelle mappe dei vari giochi. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, condivisione e like. E noi, sto dicendo, ci vediamo al prossimo video, schiocchio di dita, però in forma live magari la finiamo così. Quindi noi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie.